benvenuti in questo video per i servizi di mfconnect questa volta andremo a vedere come creare un account cliente il quale sarà poi il fulcro di tutti i servizi legati a mfconnect dalla pagina principale proseguiamo quindi con registrazione inseriamo un email che sarà il nostro account desiderato accettiamo i termini di licenza e premiamo sul registro dopo poco riceveremo un email di conferma per convalidare i nostri indirizzi completiamo quindi la registrazione accettando il contratto di licenza e inserendo tutti i dati richiesti una volta terminati saremo pronti per il primo accesso ai servizi di mfconnect a questo punto potremo cominciare a gestire la nostra flotta e come vedremo in un video successivo ad aggiungere macchine per aggiornamenti e supporto sui servizi mfconnect visita get.hconnect.com verifica la predisposizione della tua macchina e lascia un feedback per il miglioramento del servizio